Qui c'è anche un problema sugli strafalcioni del sito internet di Expo. Allora, vari insegnanti di lingue, interpreti, normalissimi cittadini che conoscono le lingue, hanno segnalato un insieme di anomalie che nessuno bisogna neanche raccontare. Tant'è che qualcuno ha detto che sembra che abbiano messo i testi su Google Translate, perché c'era praticamente un insieme di strafalcioni, addirittura l'insegnante dell'Istituto Francais Antoine Boissy ha detto che è scandaloso e imbarazzante. Dalle società dell'Expo rispondono che esiste un team di persone che si dedica soltanto al sito internet, tra cui alcuni traduttori anche di madrelingua. Stiamo valutando il da farsi, ma non usiamo traduttori automatici. Vabbè, allora, io vorrei farvi vedere la home page di Expo. In una delle prime sezioni ha la voce Learn More, quindi quando dici apprendi di più di questa cosa, no, dell'Expo. Il cos'è? Si legge subito. Not only, lo leggo volutamente così, not only is it an exhibition, but also a process. Ora, io sfido chiunque a... so che stanno già avvenendo delle idee. Che vuol dire letteralmente non solo è un'esibizione, ma è anche un processo. In effetti, con gli scandali che hanno travolto l'Expo, c'è, guarda che pazzesca sta cosa. Non è solo un'esibizione, ma è anche un processo. Chiede la Cantone per conferma, aggiungo io. Ancora, process, volevamo dire process experience, un'esperienza, però insomma, vabbè. Poi, il povero Antonio Albanese, che è un amico, è un ascoltatore di questo programma, lo abbiamo avuto ospite, lo rievremo ospite, è la voce ufficiale dell'Expo. E infatti, nella home page dell'Expo Milano 2015, in inglese, si legge Albanese looks backstage at the communication campaign of Expo Milano. Ora, io faccio notare che looks backstage, che immagino volesse dire guarda, non lo so, indietro, non esiste. Cioè, proprio looks backstage, non ha senso. Allora, il francese, il francese per l'Expo, abbiamo avuto parole inesistenti, dunque, quello che in francese si chiamano gli incontri internazionali, rendezvous, internazionaux, diventano internazionale. E gli accenti cambiano. Il biglietto d'ingresso con lo sconto diventa un remise, da un remise diventa un remise. cioè, come se fosse la sconta, che in veneziano esiste la corte sconta, la sconta poi è anche un'altra cosa, possiamo dirlo, in fascia protetta, ma non penso fosse questo l'obiettivo.